Questi sono tempi straordinari, la pandemia ha reso ovviamente tutto più complicato, anche per San Marino quello che dovrebbe essere una cosa normale, quindi poter recuperare dei farmaci e dei vaccini sul mercato è diventato molto più complesso, dopo mesi, dopo settimane di lavoro intenso finalmente anche noi iniziamo la nostra campagna vaccinale. C'è stato un grande lavoro della diplomazia, l'attività di acquisto dei vaccini ha richiesto anche l'attivazione su molti campi del corpo diplomatico, siamo contenti di aver potuto offrire il nostro contributo a questa importante sfida che poi non finisce oggi, dobbiamo ovviamente assicurare le forniture anche per il proseguo di tutta quella che sarà la campagna vaccinale e più in generale la lotta alla pandemia. San Marino oggi ha a disposizione lo Sputnik che è il primo vaccino che appunto è stato consegnato, siamo certi che nei prossimi giorni arriveranno anche i vaccini derivanti dall'accordo con l'Italia e quindi acquistati per il tramite dell'Italia e quindi cominceremo a avere delle scorte sufficienti per poter condurre appunto una campagna vaccinale nei tempi e nei modi che ci permetteranno di tenere il passo degli altri paesi dell'area europea. Noi conosciamo la pandemia in due fasi, durante la prima ondata eravamo ovviamente tutti concentrati sulle misure restrittive per contenere il virus, adesso ci siamo tutti resi conto quanto queste da sole non bastino e per quanto siano necessarie e quanto sia invece importante poter contrastare questo virus con dei vaccini e quindi creando un'immunità generalizzata. Quindi noi abbiamo lavorato e facciamo di tutto per mettere a disposizione i vaccini, adesso chiediamo alla popolazione ovviamente di rispondere all'appello e speriamo insomma di riuscire a raggiungere un buon grado di copertura in tempi rapidi.